Cari amiche e cari amici, ora vi leggo il giuramento della Polizia. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio Stato al solo scopo del bene della Patria. Ora il giuramento dei Carabinieri. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Come sappiamo, una delle giustificazioni dei nazisti quando venivano processati era quello di dire obbedivo a ordini dei miei superiori. Ecco, non può ripetersi anche in questo, la storia, in questo drammatico momento. Allora mi rivolgo a tutti gli agenti di Polizia e ai Carabinieri e mi rivolgo a voi perché non godete di tutti i privilegi dei quali godono i parlamentari, i senatori e siete stati esattamente umiliati come noi e avete stipendi da fame come noi, se soprattutto pensiamo al lavoro che svolgete e siete stati umiliati con queste ultime scelte del Green Pass. Molti di voi sono stati allontanati dalla mensa, non hanno potuto mangiare insieme agli altri. e noi vi chiediamo di rispettare la Costituzione e quindi di collaborare con noi nel rispetto della Costituzione e per cercare di mantenere vivi quelle poche libertà che ancora ci restano. Un caro abbraccio, in particolare alle forze dell'ordine. Marco Cosmo Marco Cosmo Marco Cosmo Marco Cosmo Marco Cosmo Marco Cosmo Marco Cosmo